Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale, oggi presentiamo un bel volume appena pubblicato dalle edizioni dal titolo Fernand Gonçalves de Seabra Cantigas, edizione critica cura di Maria Grazia Staffieri che abbiamo il grande piacere di avere con noi perché ci racconti di queste cantigas che sono poi un classico della musica medievale, quindi io come mia abitudine le lascio subito la parola in modo che ce ne possa parlare, prego a lei. Innanzitutto grazie mille per questa opportunità. Dunque il volume che ho appena pubblicato e che è uscito appunto con le edizioni per la collana di Biblioteca di Carte e Romanze è appunto il risultato di ben quattro anni di studio ed è iniziato con la mia tesi magistrale. Io mi sono lavorata nel dicembre 2021 e da lì insomma poi ho lavorato per approfondire e ovviamente aggiornare anche la mia edizione insomma di Fernand Gonçalves de Seabra che è un triovatore di origini leonesi che appunto appartiene allo scenario rivico garego portoghese. La sua produzione in realtà abbastanza esigua ed è appunto una produzione interamente di genere amoroso. infatti è composta da 16 cantigas appunto di argomento amoroso cortese di cui 15 cantigas di amor e una cantiga di amico e quindi non abbiamo qui a che fare con il genere satirico tuttavia possiamo comunque apprezzare una generale e anche sottile direi originalità tematica che comunque si pone nei tradizionali topoi poi della rivica profana garego portoghese seppure comunque ho avuto modo di focalizzarmi proprio sugli espedienti tecnici e in particolare a modo di stampo metrico sintattico e in generale stilistico che contraddistinguono appunto il corpus di questo autore. L'edizione critica è stata svolta mediante utilizzando il comune notissimo tradizionale metodo di Larkman e l'edizione critica in particolare a modo prevede ovviamente un apparato critico. L'apparato critico è diviso in tre fasce abbiamo le varianti grafiche le varianti significative e le varianti editoriali poi abbiamo la sezione della traduzione della metrica del commento e ovviamente delle note esplicative e a questo proposito ho deciso di focalizzarmi proprio come dicevo poc'anzi sulla componente di stampo linguistico e principalmente sintattico perché adesso io sono dottoranda di ricerca appunto alla sapienza e in filologia e linguistica romanza e mi sto occupando proprio della sintassi nella lirica dei trovatori provenzari quindi ho avuto modo anche di approfondire lo stesso aspetto anche nella lirica gareco-portoghese per quanto riguarda questo trovatore. L'edizione critica è poi accompagnata da una iniziale parte monografica la quale è costituita da una ampia sezione biografica che tenta di ricostruire appunto la discendenza e quindi le origini del trovatore che sappiamo essere abbastanza insidiose per alcuni aspetti anche molto complesse da ricostruire data appunto la diciamo la mole di dati anche a volte diciamo un po' confusi e quindi di non semplice delineamento insomma accanto alla sezione biografica abbiamo poi ovviamente la sezione riguardante la tradizione manoscritta sappiamo ovviamente che per la lirica profana gareco-portoghese lo stemma codicum appunto della tradizione manoscritta è regolare quindi abbiamo le tre tradizionali sillogi che appunto trasmettono i testi di questo autore e quindi abbiamo il più antico canzoniere della Giuda e poi abbiamo i due canzonieri italiani quindi quello della biblioteca nazionale di Lisbona anche denominato Colocci Biancuti e poi abbiamo il canzoniere della Vaticana tuttavia ci sono comunque alcuni aspetti della tradizione manoscritta di questo autore che meritano di essere chiariti e che io ho cercato per quanto più possibile di chiarire appunto nel mio volume cercando appunto di donare una posizione per quanto più possibile dal mio punto di vista esaustiva ed efficiente e in particolar modo uno degli aspetti ad esempio che mi viene in mente il principale direi che caratterizza appunto la tradizione manoscritta è proprio una rima dubbia che non si sa se appunto è attribuita attribuibile a Fendangon Salves de Seabria oppure a Dairas Veras che è un trovatore che in realtà entra in una fase successiva secondaria nella tradizione manoscritta quindi ho cercato di donare maggiore attenzione proprio a questo aspetto e di chiarire la paternità appunto di questa cantica che è una cantica di amor sulla quale appunto gli stessi testimoni insomma sono in dubbio infine appunto conclude questa sezione monografica il terzo capitolo appunto sulle principali direttrici tematico formali del corpus e qui mi sono focalizzata oltre che appunto sui tradizionali topoi appunto che troviamo nella lirica della poesia di questo autore o anche sul linguaggio, sul registro linguistico e sui esperienti stilistici tradizionali oppure innovativi che possiamo rinfiacciare e infine abbiamo ovviamente la classica sezione che si ritrova insomma nelle edizioni critiche che spiega appunto i criteri che sono stati adottati per questa edizione e ovviamente gli studi che rappresentano insomma il punto di partenza e in particolar modo appunto vorrei focalizzare l'attenzione proprio sul fatto che per questo trovatore fino ad oggi non è mai esistita una edizione di critica corredata poi di studio monografico individuare e a sé stante ma appunto la produzione del trovatore è sempre stata analizzata in relazione a studi più ampi che comprendessero quindi interi canzonieri penso ad esempio proprio al canzoniere della Giuda a cura di Michales de Vasconcelos ma anche in relazione a studi più ampi che quindi comprendessero studi, analisi su appunto le cantigas d'amore oppure le cantigas d'amico o ancora su studi che riguardassero edizioni di altri trovatori e quindi in questo senso in ottica comparatistica quindi questa appunto è una breve sintesi insomma ci troviamo comunque davanti a un'edizione di stampo insomma tradizionale ma secondo me nella parte monografica soprattutto si possono ritrovare spunti molto interessanti è interessante nel suo insieme fra l'altro volevo anche ricordare ai nostri videoascoltatori che se vanno sul sito dell'editore che è l'edizioni possono scaricare il pdf gratuito che è sempre una iniziativa incomiabile da parte degli editori che rinunciano quindi a guadagnare i quattrini e magari anche a dovergliene pagare a lei come autrice avevo una curiosità ovviamente non esistono partiture musicali di quest'autore oppure sì? No, allora io per quanto riguarda io diciamo nell'analisi che ho fatto dei manoscritti non ho rincacciato appunto riferimenti a una possibile notazione musicale quindi direi di no per quanto riguarda quest'autore direi di no Ma che lei sappia esiste qualche qualche gruppo di musica medievale che ha provato a a musicarle o non le risulta? Dunque, allora per quanto riguarda specificamente l'autore di cui io mi sono occupata sono sincera non ne sono a conoscenza Eh beh del resto non è certo obbligatorio no perché Cantigas è come dire è qualcosa di molto diffuso in tutta la lirica trobadorica quindi non non solo quella galeno portoghese ma anche quella provenzale Sì certo sicuramente per quanto riguarda la lirica appunto provenzare ci sono appunto lavori di questo genere che appunto provano a ricostruire anche l'aspetto musicale hanno provato a ricostruire l'aspetto musicale quindi sì sicuramente dal punto di vista insomma dell'ambito provenzale sicuramente ci sono più lavori di questo genere e specificamente appunto per l'autore di cui ho realizzato io l'edizione critica che io sappia ripeto non non ce ne sono per il momento ho capito bene allora io a questo punto credo che sia giusto ricordare ancora il titolo in modo che chi vuole può andarselo a comprare in libreria ovviamente e invece chi preferisce se lo può scaricare dal sito delle edizioni e il titolo è Fernan Gonsalves de Seabra Cantigas Cantigas qui l'accento non so mai doveva finire edizione critica cura di Maria Grazia Staffieri e appena pubblicato dalle edizioni e quindi io non posso far altro che ringraziare tantissimo Maria Grazia di avercela parlato poi magari quando vedrà il video ascolterà anche della musica medievale e mi dirà cosa ne pensa quando lo veda quindi grazie veramente di tutto e a tutti i nostri video utenti ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube dove possono trovare tutte le video presentazioni realizzate finora grazie ancora e a presto a presto a presto a presto a presto